Non esiste nessuno che non sbaglia. Un'altra grande lezione che ho imparato sulla mia pelle è non aver paura di sbagliare, perché non esiste nessuno che non sbaglia. Sbagliare è un modo per imparare. Deve essere, la cosa importante, come si dice nell'innovazione, è sbagliare a basso costo. Far sì che il tuo errore tu lo riconosca in fretta, non ti ostini, avere l'umiltà di dire ho sbagliato e se necessario tornare indietro e ricominciare da capo. Un errore non è mai un fallimento.